Successo e pianificazione. Oggi iniziamo una serie di video in cui parliamo di successo, di quali sono i problemi che riscontro principalmente quando faccio consulenza con i miei clienti per cui non riescano ad ottenere il successo. Il primo tra tutti, credo che sia quello più evidente e che colpisca veramente la maggior parte dei piccoli imprenditori, riguarda la pianificazione. Detto in maniera terra-terra, praticamente non pianificano alcun tipo di strategia a lungo termine e non hanno degli obiettivi chiari e specifici da raggiungere. Il che come si trasforma nella loro quotidianità, semplicemente che sono sempre sommersi da cose da fare, sono sempre a rincorrere le urgenze, l'imprevisto del momento, il dipendente che non ha fatto un lavoro devono intervenire loro e una serie di attività che praticamente li fanno correre tantissimo ma non fanno sviluppare l'azienda. Quindi si concentrano esclusivamente sul breve periodo. Per cui quello che invece va fatto è stabilire degli obiettivi ben chiari che abbiamo intenzione di raggiungere quali sono quelle attività che hanno realmente un valore per far crescere il nostro business e non correre dietro all'urgenza perché sennò veramente sprechiamo tantissime risorse e tanto tempo e concentrarci sul lavorare su proprio queste priorità. Null'altro. Probabilmente anche a te è capitata una situazione del genere perché bene o male l'imprevisto può capitare a tutti, altrimenti non si chiamerebbe imprevisto. Il problema è che per molti questo rincorrere il problema del giorno è proprio la normalità e non deve essere così. Quindi noi dobbiamo fissare degli obiettivi chiari e concentrarci per realizzarli. Altrimenti continueremo a correre, correre, correre e fare veramente l'1% rispetto a ciò che potremmo fare con una pianificazione più accurata. Quindi oggi chiediti tu che tipo di imprenditore sei? Hai degli obiettivi a lungo termine da realizzare e ti concentri su quelli oppure giri come una trottola correndo dietro le urgenze? Riflettici perché lo sviluppo e la velocità con cui crescerà la tua attività dipende anche da questa tua competenza. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, se ti chiedessi ad oggi qual è l'obiettivo che hai stabilito per il prossimo mese? Quali sono le priorità che devi assolutamente portare a termine? La maggior parte di voi purtroppo mi risponderà che non lo sa oppure butta fuori delle risposte così un po' improvvisate su cose che effettivamente ritengono importanti e probabilmente lo sono anche. Ma se tra tre mesi gli chiediamo quali sono queste priorità, saranno ancora quelle perché non hanno stabilito le priorità reali che devono guidare le loro giornate e quindi sanno cosa dovrebbero fare ma sono sommersi da tutti questi imprevisti che queste cose importanti non vengono mai portate a termine e questo si traduce in un'immobilità, cioè in una crescita che non arriva mai. Quindi cerca di pianificare correttamente, altrimenti andrai molto più lento rispetto a ciò che potresti fare. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!